signori signori mentre io tornavo questi signori andavano vero ragazzi vero che voi andate come vi chiamate ragazzi due massimi esponenti della camozzi ecco ragazzi ecco questo registra allora facciamo un piccolo video che così rimane rimane come ricordo attenzione è venuto da te questo ragazzo ti punta è festeggiato e massimo è vero ricordiamo vieni massimo vieni anche te nel video ecco ecco vedi abbiamo abbiamo il dj ecco che è venuto a farti gli auguri personalmente sei contento massimo buon natale ragazzi buon natale fantastico eh fantastico massimo sei contento di questo compleanno fantastico hai visto che auguri speciali che ha ricevuto meglio di così sono un po invidioso per l'occhiale quello serve anche per la nebbia ci vede da lontano io li nutro un po di invidia magari a fine serata te lo regalerà il dj sarebbe sarebbe il regalo più bello del mio cinquantesimo e se un paio di occhiali così poi però mi vai in azienda con l'occhiale giusto è ovvio eh sì perché è importante è importante eh beh con un occhiale così vado in studio mi spacchi tantissimo proprio poi tutte le colleghe impazziranno per te esatto non ne ho ma è lo stesso non ne hai però va bene lo stesso apprezzate tutti uomini in reparto sì siamo sì sì praticamente sì ma niente quando essi allora dal reparto per l'aperitivo per l'aperitivo va bene e per la serata al convento di Leonardo vuoi approfittare intanto che siamo qua io e te ma poi questo video lo vedranno tutti i colleghi sul sito per fargli gli auguri per ringraziarli sì auguri a tutti buon Natale non posso dire altro hai già detto tanto va bene no? due parole semplici trasmetti tutto quello che vuoi buon Natale da Massimo tu torni io vado? vai ok ciao Massimo ciao io vado ciao